I finanzieri del Comando Provinciale di Piacenza hanno eseguito presso gli uffici del Comune Cittadino acquisizioni documentali delegate dalla Procura regionale della Corte dei Conti in merito alle procedure di acquisto in uffici ubicati all'interno dell'immobile denominato Borgo Faxal. Contestualmente, insieme al personale della Polizia Municipale, hanno eseguito perquisizioni delegate dalla Procura della Repubblica di Piacenza. Sarebbero tre gli indagati con l'accusa di falso in atti tra rappresentanti della precedente amministrazione e dirigenti comunali. Un'attività, scrivono da Palazzo Mercanti, in una nota scattata anche a seguito della segnalazione effettuata dal sindaco Patrizia Barbieri e annunciata pubblicamente dal primo cittadino durante la seduta di Consiglio Comunale del 4 giugno scorso. Lo stesso primo cittadino ha espresso la volontà di offrire massima collaborazione per far luce sulla vicenda. Il Comune ha inoltre sottolineato come la delibera per la compravendita della struttura, che riguarda la precedente amministrazione, era stata approvata in sede consigliare nel dicembre 2016, mentre l'atto di acquisto era stato successivamente completato nell'aprile 2017. Poi appunto, nella seduta del Consiglio Comunale dello scorso giugno, questa pratica aveva tenuto banco. All'ordine del giorno c'era l'approvazione della variazione di bilancio e, tra le voci di spesa, i 40.000 euro di oneri condominali sostenuti dall'amministrazione, imputabili in larga parte al complesso Borgo Faxal.